Inizia così la quinta era di Dylan Dogg, in modo semplice, in modo veloce, quasi di fretta e in modo finalmente ufficiale. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene, io sono Rogatij, questa è Storia dell'altra vita, qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Ed oggi, se venite più vicino, c'è la notizia del giorno, la notizia del mese, la notizia della stagione e forse anche la notizia dell'anno. È ufficiale, è ufficiale, Recchioni abbandona la curatela di Dylan Dogg e viene sostituito da... Non ve lo dico subito, non ve lo dico subito, perché volevo prima parlare delle quattro aeree precedenti che ci sono state. La prima, quella di Tiziano Sclavi, poi Mauro Marcheselli, Giovanni Gualdoni ed infine proprio Roberto Recchioni. Facciamo un passo indietro, facciamo un passo indietro, restiamo negli ultimi dieci anni. Facendo un passo indietro, no, mi sono accorto che se faccio un passo indietro vi spoilerò immediatamente la notizia, quindi devo fare così, aspettate, così copro quell'altra, ok. Adesso, eccolo qua. Facciamo un passo indietro. Questa è la notizia dell'ANSA del 26 settembre 2014 alle 16.39 del cambio di curatela di Dylan Dogg che passa da Gualdoni a Roberto Recchioni. A tre anni dalla morte Sergio Bonelli, storico editore di Dylan Dogg, siamo nel 2014 appunto, il celebre fumetto si rinnova con un nuovo curatore editoriale, Roberto Recchioni, nuovi personaggi. Debutto domani con il numero di ottobre intitolato Spazio Profondo. Vogliamo riportare Dylan allo spirito originale, cioè un personaggio in grado di intercettare lo spirito del tempo, ha detto Recchioni. Ma entrano anche altri protagonisti come il nuovo nemico dalla moralità e dall'etica che si chiama John Ghost. Vabbè, qui non hanno specificato dalla moralità e dall'etica. Vabbè, che si chiama John Ghost? Questo è il lancio dell'agenzia ANSA del 2014 nel quale appunto si introduceva questo numero speciale, perché fu un numero speciale, il 324 mi pare, tutto a colori in cui iniziava il lavoro di Roberto Recchioni sul personaggio e su tutto l'universo di Dylan Dogg, quindi anche sulle altre pubblicazioni. Passa il tempo e Recchioni introduce due novità importanti e anche un po' la terza, che poi lo porteranno ad uscire di scena appunto in queste ore. Come curatore, perché di storie appunto sappiamo che ce ne saranno altre, come prima cosa è il passaggio obbligatorio quello di creare il ciclo della meteora, per andare a chiudere un universo che non riusciva ad esprimersi appieno, non riusciva ad esprimere appieno la sua concezione, il suo modo di vedere Dylan Dogg. Aveva introdotto Rani, aveva introdotto Carpenter, aveva introdotto appunto John Ghost, ma tutto questo non bastava. Il mondo era ancora troppo ancorato a quello precedente, a quello sclaviano, a quello di Gualdone e Marcheselli, che non avevano cambiato nulla sul personaggio. Intanto ovviamente suona una sveglia. Adesso andiamo a spegnere la sveglia. Vai, spegniamo la sveglia. Marco è ora di salire, anche questo sul video, perfetto. Parliamo per essere seri, ovviamente. Allora, il bello della diretta, dicono una volta in tv, che cosa succede a questo punto? A questo punto succede che inizia il ciclo della meteora, arriva il 400, tagliamo letteralmente la testa a Tiziano Sclavi per far capire la differenza tra il personaggio nuovo e il personaggio vecchio e poi inizia il ciclo 666. Il 666 è un capovolgimento impressionante, spaventa molti, spaventa anche me. Sei numeri in piena pandemia, cioè quando tutta l'attenzione era focalizzata su quello, quando effettivamente l'unica cosa che potevamo fare era andare in edicola a comprare roba. C'è stato un momento, anche piuttosto lungo, in cui era tutto chiuso. Erano aperti supermercati ed edicole, quindi... o farmacie. Ma quella era meglio non andarci spesso, se ci si riusciva. Quindi, quindi che succede? Beh, succede che questo personaggio rivoluzionato mette in discussione per sei mesi tutto il, diciamo, il fandom di Laniato. Io personalmente all'inizio non la prendo benissimo, e quelli sono stati tra i primissimi video che ho fatto, però poi mi inizia ad intrigare la questione. Come altre, mi dispiaccio, per il 406, l'ultimo numero del ciclo, che un po' torna parecchio indietro su quello che si era deciso di fare. E a questo punto credo che ci sia lo zampino di qualcuno, nel senso che ci sia stata una volontà di non arrivare fino in fondo con la barba, del Dylan Dock con la barba, nel non andare fino in fondo con Gnaghi o chi per lui. C'era già stato un ripensamento. E di questi siamo stati dotti adesso, quando l'ultimo Lucca Comics, appunto, è stato presentato il nuovo ciclo del ritorno al... al passato, del ritorno al Dylan Dock Classico. Dylan Dock Classico che adesso è tornato, abbiamo analizzato gli ultimi due numeri, volete, ci sono i video, con un ciclo di tre numeri, il cui soggetto è di Claudio Lanzoni. Che io ancora non so se è vero o finto, sto Claudio Lanzoni è una di quelle cose che c'ho qua, che però, vabbè, ci sta. Magari il nuovo curatore, il nuovo curatore ce lo potrà dire, anche perché mi aveva mezzo detto che... avrei potuto anche intervistarlo, perché gli piaceva il canale come facevo i video. A questo punto che succede? Succede che Roberto Recchioni, che Claudio Lanzoni, soggetta due numeri, che riportano Dylan Dock al Classico, insieme a sclavi, almeno questa è la narrazione, perché noi da sclavi non abbiamo una singola parola, insieme a sclavi pensano che due numeri sono pochi, ce ne devono mettere un altro, quindi Recchioni stesso sceneggia l'uscita di scena di John Ghost e qui torniamo a questo comunicato stampa che è importante, in cui si faceva proprio il punto su John Ghost, si metteva in evidenza questo nuovo villain e qual è il primo personaggio che cancella Recchioni dall'universo dilaniato quando deve andare via? proprio John Ghost. Non penso ci sia da aggiungere altro. A questo ciclo ci si aggiunge un Color Fest che effettivamente, diciamo, un po' riprende un bel Color Fest, devo dire interessante, il numero della serie regolare, il primo cosiddetto numero di questo ciclo, di tre albi, che in realtà sono due, non mi ha fatto impazzire, e poi c'è un doppio numero del nuovo curatore di Dilan Dog, di Barbara Baraldi. Barbara Baraldi, ragazzi, è il nuovo curatore di Dilan Dog, adesso andiamo a parlare anche di lei, ci sono i due numeri che riportano Dilan Dog al classico e poi anche lì all'interno il rilancio proprio qui l'albo 435 inizia una trilogia destinata a cambiare nuovamente l'ambientazione del personaggio. Soggetto di Claudio Lanzoni, come abbiamo detto, il primo numero 435 di Roberto Recchioni, 436 e 437 di Barbara Baraldi, numero in cui salutiamo Carpenter, salutiamo Rania, salutiamo un Dilan Dog, salutiamo un Block che è diventato sovrintendente e che torna ispettore, salutiamo una serie di cose. Non salutiamo però appunto Barbara Baraldi che prende le redini di Dilan Dog. Finalmente una donna, parrà anche strano dirlo, non è neanche da me, io non ci faccio nemmeno caso, a queste cose. Però sì, questa volta ci voglio far caso, perché non è una donna qualsiasi, è una scrittrice, una scrittrice bravissima, una scrittrice molto impegnata, io non so dove troverà il tempo di curare Dilan Dog, visto anche le tante storie che ha prodotto negli ultimi tempi. E gli indizi che fosse lei la prescelta, c'erano, gli sono stati messi in mano progetti importanti. Jenny, che è stato uno dei tre numeri della trilogia con Vasco Rossi, gli è stato messo in mano il ritorno al classico, abbiamo già visto una storia della Baraldi successivamente al ritorno al classico, quindi ragazzi c'erano, c'erano addirittura uno di voi su un commento già me l'aveva scritto settimane fa, hanno già deciso è la Baraldi e tutto il resto. Parliamo un po' della Baraldi e poi andiamo a parlare un po' di quello che invece è la decisione di Bonelli. Allora, la Baraldi adesso è in promozione fra virgolette del suo ultimo romanzo Il Fuoco Dentro su Janis Joplin. La Baraldi è una scrittice veramente a tutto tondo perché negli ultimi anni ne ha prodotti veramente tanti di libri. Se voi andate a vedere 2013 Il Fuoco Dentro su Janis Joplin, poi Cambiare ossa il 2022, La Stagione dei Ragni il 2021, 2019 L'Uttima Notte d'Aurora Osservatore Oscuro 2018 Aurora del Buio 2017 molto molto prolifica tutti quanti volumi che hanno avuto un grosso impatto all'interno della narrativa italiana. Io non ho mai letto un libro della Baraldi perché bontà mia sono molto impegnato a leggere i fumetti e non riesco ad essere preso da un libro però 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 c'è da dire che il successo ce l'hanno avuto è stato anche importante. Ora un altro indizio che sarebbe stata la Baraldi poteva essere anche il fatto che l'anno scorso a Lucca doveva essere presente lei, Roberto Recchioni e Michele Masiero sul palco poi lei per un problema personale non ha potuto calcare il palco ha mandato dei video messaggi se vedete nel report che ho fatto ci sono dei pezzi dei suoi video messaggi e già lì si poteva intuire la cosa però io personalmente sono voluto andare con gli piedi di piombo fino a quando non l'ho visto scritto da Bonelli è inutile starlo a dire rischiavi anche fra virgolette di bruciare il nome come si dice non io soltanto ma se ne iniziano a scrivere tutti casomai si poteva appunto bruciare il nome ma sono contento sono veramente contento perché questa quinta era inizia con una novità importante e con una scrittrice che di D-Landog ne ha scritti abbastanza non è aggiornatissima Wikipedia su questa cosa qua ma il primo numero che ha scritto è stato con Paolo Mottura il bottone di madre perla di un D-Landog Colorfest del 2012 e poi Nei colori della paura è stato inserito nel 2016 e poi ha scritto con Nicola Mari la mano sbagliata il 348 ma soprattutto ha scritto un numero particolarissimo che io spero che io spero possa essere anche di non dico di di indirizzo perché questo fa parte a piene mani dell'inizio del ciclo di Recchioni però che possa essere un'idea un'idea su come portare avanti il personaggio gli anni selvaggi ce l'ho proprio qui il ce l'ho proprio qui il fumetto fatto con Nicola Mari in cui si parla di un giovane D-Land è che a me ha sempre ha sempre affascinato come periodo di D-Landog magari un old boy sul giovane D-Land potrebbe essere anche interessante vabbè l'ho detta non è vera quella che ho detto ovviamente però delle storie sul giovane D-Land a me sono sempre piaciute inutile inutile nascondersi tra un dito poi ha scritto il 367 la Nina D-Land dell'ultima notte perderai la testa il 385 ne ha scritti veramente tanto la sopravvissuta con con Picatto e Massaglia insomma ha scritto veramente tanto su D-Land D-Land numeri che sono andati anche bene la solitudine del serpente dell'all boy buongiorno tenebra sempre in un altro all boy cioè noi l'abbiamo seguita in questi tre anni di canale in questi soli tre anni di canale quindi diciamo secondo me è una buona notizia una buona notizia una quinta era di Laniata che inizia con qualcosa di interessante diamo ovviamente un saluto caloroso a Roberto Recchioni anche da non curatore di D-Land Dog io gli tendo come sempre la mano come ho sempre fatto la mano quindi se mai vorrà venire sul canale sarà aperto a lui come lo è a tutti gli autori a tutti gli editori e anche ai lettori se hanno qualcosa da dire e niente niente mi andava però un po' di approfondirla questa cosa perché altrimenti è tutto quanto messo un po' così a caso perché altrimenti è tutto quanto un po' diamo la notizia la potevo dare in 30 secondi si faceva prima voi la sapevate però ci sono delle cosette che a me mi hanno fatto pensare vediamo se fanno pensare anche voi allora innanzitutto c'è stata un'accelerazione clamorosa vediamo a noi va che meglio c'è stata un'accelerazione clamorosa su questo cambio di guardia cambio di guardia che lo stesso Orecchioni aveva preventivato per Lucca e che invece avvene mesi prima addirittura prima dell'estate un cambio di guardia che qualche una settimana fa più o meno aveva ancora una volta ancora una volta anticipato Orecchioni sul suo telegram o sul suo insta non so scrivendo un meno uno al numero che è adesso in edicola e poi non rimase nessuno e che ha subito un'ulteriore accelerazione ora il perché di queste accelerazioni non lo so non ve lo so dire ma sta di fatto che sembra così cioè dalle dai post del curatore dell'ex curatore ormai sembra proprio così non vogliamo iniziare con una polemica non è quello è soltanto per capire per capire quello che è successo e anche per sottolineare come il nome della Baraldi invece sia un nome fortemente voluto dall'editore ma fortemente voluto dall'editore per il quale appunto si è messo in campo un un ritorno appunto al classico per il quale si è messo in campo anche un forse anche un'impuntatura del direttore editoriale che da un po' di tempo a questa parte aveva dato molta più visibilità appunto alla Baraldi questa è una cosa che è palese davanti a tutti ora perché beh probabilmente perché era inutile continuare a fare un tiro e molla fino a Lucca era inutile anche dare questa notizia a Lucca francamente a Lucca è meglio arrivarci già corazzati no? si saranno fatti questo conto si saranno fatti questo conto complice anche il fatto che comunque i recchioni sono anni che continuano a dire che lui è in scadenza in scadenza in scadenza e quindi si sarà si sarà sicuramente reso conto reso conto di questa esigenza e si sarà fatto da parte questo io ne sono convinto per il bene appunto del personaggio per il bene che vuole a Tiziano Sclavi per il bene che vuole a Fumetto in sé si sarà messo da parte e avrà detto avanti un altro io il mio l'ho fatto nel bene e nel male il mio l'ho fatto come sempre soltanto chi non fa non falla adesso però che cosa vedremo beh questo non ve lo so dire io quello che vi posso dire è che vorrò ascoltare le parole del nuovo curatore il prima possibile online dal vivo come come vorrà vorrà la Baraldi io mi metterò completamente a disposizione dopo praticamente più di due anni di silenzio stampa nei miei confronti su le testate di Dilan Dog spero spero che questa questa cosa accada e che finalmente possa ascoltare dalla viva voce dei protagonisti che curano Dilan Dog di Barbara e di Busatta quello che sta succedendo quello che succederà non dico di avere spoiler chissà che ma quantomeno di avere la possibilità di dialogare con loro io me lo aspetto credo che non ci saranno problemi con la Baraldi ci sono sentito più volte siamo in ottimi rapporti poi il mio lavoro è quello di parlare apertamente in modo oggettivo più oggettivo possibile delle cose posso sbagliare ma credo che ci sia la maturità per accettare l'errore eventuale per accettare la critica eventuale e per accettare anche il complimento eventuale io su questo ci conto quindi buon vento alla Baraldi un abbraccio anche a Roberto Orecchioni e ditemi voi che cosa ne pensate qua sotto più di una volta si sono fatti alcuni nomi su Dylan Dog e la cura di Dylan Dog questa questo nome il nome della Baraldi è un nome che secondo me accontenta tutti non perché possa essere un nome non in modo negativo ma in modo positivo cioè una persona che fino adesso è stata molto super partes e che si può occupare della testata io spero che quello che mi sono augurato che la cura di Dylan Dog sia un lavoro a tempo pieno per Barbara Baraldi io me lo auguro io mi auguro di riuscire a capire dove vuol traghettare il personaggio assieme a a sclavi e magari anche a intervistare Claudio Lanzoni anche soltanto scritta l'intervista va bene uguale la faccio scritta come si faceva una volta senza telecamere però è importante è importante e questo lo dico proprio a Barbara è importante la trasparenza è importante la sincerità è importante un tipo di rapporto più coeso con i lettori di Dylan Dog che non significa bisogna dire tutto perché poi lì si esagera al contrario però bisogna far capire dove sta andando il personaggio e come le persone che stanno continuando a comprare Dylan Dog mese dopo mese anche nelle diverse edizioni come stanno spendendo i loro soldi perché ricordiamoci sempre che chi compra Dylan Dog e chi compra i fumetti chi compra un personaggio seriale sta spendendo i suoi soldi su quel progetto e un pochino quel progetto lo vuol conoscere e ha il diritto di conoscerlo eh buon lavoro ci leggiamo qua sotto nei commenti ciao belli